Eccoci all'appuntamento per le previsioni del fine settimana sulla regione. Vediamo dal satellite un fronte atlantico arrivare sul Mediterraneo ma farà fatica ad avanzare verso est e quindi nei prossimi giorni avremo solo un flusso di correnti da sud ovest che nella giornata di domani sabato porteranno cielo in prevalenza coperto in montagna con piogge deboli o moderate, nuvoloso in pianura con delle piogge sparse in genere deboli, variabile sulla costa dove appunto ci potrebbe essere qualche schiarita ma anche qualche locale pioggia. Vento da sud moderato sulla costa, temperature massime intorno ai 21-22 gradi su pianura e costa. Per la giornata successiva, quella di domenica, ci sarà la possibilità di avere qualche apertura in più del cielo da cui un cielo in genere variabile sulla costa, un po' più nuvoloso in pianura ancora con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa, più nuvoloso coperto ancora sui monti con delle piogge specie sulle prealpi giuglie. Tempo migliore nel Tarvisiano, temperature massime intorno ai 22 gradi circa per quanto riguarda pianura e costa. Di notte la possibilità di qualche nebbia in pianura, vento invece in giornata da sud sulla costa. Per la giornata di lunedì abbiamo una situazione ancora incerta di tempo con nuvolosità variabile, la possibilità di qualche rovescio e anche qualche temporale in pianura dato dallo scirocco che soffierà sulla costa. Temperature ancora piuttosto elevate per il periodo intorno ai 22-23 gradi su pianura e costa. Possibilità di qualche nebbia in pianura di notte. Il tempo poi andando avanti nei giorni si stabilizzerà per l'arrivo dell'alta pressione, per cui martedì cielo poco nuvoloso con la possibilità di qualche nebbia di notte in pianura, ma poi in giornata bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno forse i 25 gradi in pianura e 23 sulla costa. Bel tempo anche nella giornata di mercoledì. Dall'osservatorio metodo regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.